Ti insegno il trucco definitivo per imparare le note sulla tastiera della chitarra. Vedo molte persone che impazziscono e non riescono mai a impararle. Se ad esempio devono scoprire che nota è questa sul decimo tasto della corda mi, partono dalla corda a vuoto e fanno questo. Mi, fa, sol, la, si. Certo, prima o poi ci arrivi, ma intanto sono passate due ore. Il mio trucco consiste nel darsi tre punti di riferimento fondamentali. La corda mi a vuoto, il mi sul dodicesimo tasto dove ci sono i due pallini, e il la sul quinto tasto, che infatti usiamo quando accordiamo la corda sottostante, la corda la. Il metodo consiste nell'utilizzare dei tre il punto di riferimento più vicino. Se la nota che ci interessa è questa, non ha senso partire dalla corda a vuoto, che è lontanissima. Abbiamo un punto di riferimento che è molto più vicino, qui. Quindi se questo è un mi, questa sarà una nota re. E se dobbiamo scoprire che nota è questa, ancora non ha senso partire da capo, ma useremo questo punto di riferimento, il nostro la, e quindi questo sarà un si. Se invece la nota è in quest'area della tastiera, invece si, utilizzeremo la corda a vuoto, quindi mi, fa. Su lezionechitarra.it trovi tutte le mie lezioni e corsi completi. link in bio o in descrizione del video. Ciao!